La bionda ex Bonas di Avanti La bionda ex Bonas per il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo ha scelto un look casual ma curato in ogni minimo dettaglio. Top di set-up a World Hacks, pantaloni bianchi e sneaker a Givenchy che ben si abbinavo al resto dell'outfit. Come accessori ha optato per una borsa black and white e grandi occhiali da sole glamour. La Caruso ultimamente si è trasferita a Monte Carlo, dove vive e lavora il fidanzato Francesco Caserta. Dopo due mesi d'amore, la bionda della TV, e la sua dolce metà hanno deciso di condividere lo stesso tetto, e hanno già grandi progetti insieme. Per noi la famiglia è più importante ha dichiarato Paola Caruso al settimanale Nuovo TV prima di fare un figlio ci sposeremo. Siamo persone un po' orecchio stampo, punto Intanto, la coppia vive insieme a Monte Carlo, e non si voluta a perdere il Gran Premio di Formula 1, evento sportivo a cui hanno partecipato tantissimi personaggi noti. Video. 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 .